Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, io sono Endergame e oggi siamo tornati su Minecraft Enderwood episodio, non mi ricordo qual è Si, si chiama così, episodio non mi ricordo qual è Cioè, veramente ragazzi, non mi ricordo che episodio è questo Vabbè, scrivetelo sotto nei commenti che episodio è, eh, mi raccomando E ragazzi, cosa andremo a fare oggi? Oggi ragazzi, non andremo nel Nether So che volete che noi andremo nel Nether, però non ci andiamo Perché oggi ho in mente un altro progetto da fare con voi Ho preso un bel po' di cobblestone, cioè non ci basterà mai per fare questa cosa Però la prenderemo Faremo oggi il mob generator Ragazzi, questo video sarà diviso in due parti Cioè, se non riusciremo a finirlo tutto, nel prossimo episodio cercheremo di finirlo Un attimo io vado a uccidere quello, vediamo se me la dà, eh Vediamo Me la dà, me la dà, si vai, me la dà Vai, è infinito, vai, 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 vai Vai, vedete com'è nuovo, è com'è nuovo Questo possiamo, tocca, via Se ne teniamo, ci teniamo salendo una freccia Aspettate È infinito 1, potenza 2, impatto 1 Vabbè, dai, ci sta A me piace Quello là Wow Vabbè, dai Iniziamo a costruire il nostro mob Il complex generator Allora, di sopra, se non sbaglio, dovrebbe essere 24 di altezza Allora, noi partiamo il primo blocco 1, 2 3, 4 Perché qua ci saranno I cosi Non mi ricordo come si chiamano Sono specie di tubi che sono collegati a una cesta Non mi ricordo come si chiamano C'erano solo punti della lingua, eh Qua ci sarà la cesta E adesso Mettere in mouse e quando lo farò tutto Lo faccio E avvio il video Dopo Mi sono Fatto Scusate ragazzi, mi sono messo in creativa per sbaglio Non l'ho fatto apposta, eh Scusate Ma mi sono andato a prendere un bel po' di pietra E devo essere sincero Vi dico la verità Questo è quello che ho preso dalla creativa Dai, ve lo dico Perché Mai l'ho scoperto Ok ragazzi L'ho costruito Sono 24 blocchi E adesso mettiamo Quest Allora, prima mettiamo la cesta Che la devo andare a fare In effetti, dormo perché ci sta facendo notte Un attimo Sono 64 precise Adesso Un attimo solo Vedo dove si trovano Ok Una doppia cesta Dormiamo Vedo il mio solo di notte Perché adesso in questo momento Che cos'è Cos'è Dai, fai notte Così dormo E posso continuare a costruirlo Ah, meno male Ragazzi Andiamo a mettere In prima cosa La cesta Andiamo a mettere Che Adesso spacchiamo questi due Un attimo Uno Due Uno Due Un attimo Ma che No No, ma seriamente Non mi direi che ho sbagliato Ho sbagliato Devo metterla La cesta Dentro Perché io Non prendo mai Lush Mi secco Prenderla Lo so Però Ok La mettiamo Precisamente Qui Adesso Questa La attacchiamo Questa Questa E a questa Vediamo se funziona Sì Funziona Funziona Ok E adesso Preghiamo anche Con questa Sì Funziona Anche questa Dai Funziona Mettiamo Quei blocchi Che abbiamo Spaccato Ok Adesso Di sopra Penso Che dovrebbe Essere Otto Aspetta Un attimo Perché Mi sono ricordato Di una cosa Per l'acqua Adesso Sopra Ci faremo Una fonte D'acqua Infinita Tre pezzi Di ferro Vado a farmi Un altro Secchio D'acqua Do sta Do sta Do sta Eccolo Qui Andiamo Nel Laghetto Abbiamo Un altro Non mi ricordo Ragazzi Qui c'è un ragno Là c'è uno Scheletro che sta Brucendo E là uno Scheletro Tutto Quando ho fatto Doro E l'arco E l'arco Ingannato Vedete Ce l'ho Da Di nuovo Un arco Si ce l'ho Dato di nuovo Incredibile Imbatto Questo è Imbatto Imbatto Uno Ragazzi Wow Imbatto Uno Si Chi sta Non lo so Non Non mi convince Perché è Quasi Mezz'ora Otto Quindi non lo usiamo Quando avremo Una Una Envil La uniamo Con quella Che abbiamo Adesso Con la nuova Di zecca Con la Infinito Uno Potenza Due Imbatto Uno La uniamo Con Imbatto Con questa qua E diventa Imbatto Due Se non sbaglio Giusto Si Penso che dovrebbe Essere così La cosa Prendi Il cuore Ok E ci andiamo a fare anche delle scale Per il tempo Un bel po' di scale Scalappioli Vabbè 30 Sono ok Almeno 3 Ok ragazzi Mi sono arrivato Adesso Dovebbe essere La cosa Per fermarsi L'acqua E per far cadere il mob Dovebbe essere Otto Giusto Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette E otto Adesso Facciamo la stessa cosa di là Il tempo piccolo Lo smacchiamo Ok Adesso la stessa cosa dall'altra parte Uno Due Tre Quattro Cinque Vediamo Vediamo un altro Cinque Allora Cinque Sei Sette E otto Adesso l'altra cosa di qua Ho sbagliato un blocco L'ho messo là sotto Però vabbè Uno Due Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette E otto Allora aspetta L'ho allaggato un attimo Quindi non c'è il pezzo di blocco Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette E otto Ok Ok Adesso la stessa cosa di qua Uno Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette E otto No E l'ho pensato Ma perché sbaglio in questa maniera Perché Adesso dovremmo chiuderli Li chiudiamo E ci piattiamo l'acqua Senta Ho fatto un occhio strutto quando riapri il video Ok ragazzi L'ho finito Ho fatto anche una fonte d'acqua infinita Adesso Li piazziamo qui Li riempiamo tutti Ok Adesso Devo mettere lì L'acqua Oh Ok Ho sbagliato qualche cosa Secondo me Secondo me Ho sbagliato qualche cosa Non sto arrivando fino a qui E il che è male Quindi Uno Due Aspetate Dobbiamo togliere quest'acqua Ho sbagliato qualche cosa di sicuro Un attimo Ma perché sbaglio così Ok Invece se noi facciamo così Adesso dovrebbe arrivare Sì Dovrebbe arrivare Quindi Leviamo questa Se abbiamo fatto così Con gli altri Direi che abbiamo sbagliato Anche gli altri Quindi adesso Se vedete cosa facciamo noi Facciamo così E leviamo anche questo Un attimo In quel tempo Noi pensiamo Un acchio Un acchio Madonna come parlo oggi Un acchio Va bene Allora ragazzi Direte come volete qui con video Se vi è piaciuto Lasciate un commento E un mi piace Iscrivetevi Commentate Mettete mi piace E noi ci vediamo Nel prossimo video Bella